Per valorizzare i propri mobili di pregio e per cercare possibili investitori, la regione toscana comporrà presto una sorta di book, un catalogo circostanziato da presentare in giro per il mondo e che sarà disponibile anche online. In attesa che il nuovo catalogo sia pronto, ci sarà intanto una prima uscita tra qualche giorno in Francia. La regione infatti parteciperà dalla 15 alla 17 marzo prossimi al Mipim di Cannes, evento mondiale in cui investitori di paesi diversi incontrano gli enti che hanno immobili da offrire. Sarà questa la prima vetrina alla quale parteciperemo per fare promozione a questo nuovo sistema di vendita dei nostri immobili a cui, se troveremo interesse, potranno accedere anche altre istituzioni. Lo ha detto l'assessore responsabile Bugli. Bugli ha ricordato anche l'operazione di contenimento dei costi in atto in regione e di razionalizzazione della gestione delle risorse. La regione spende oggi per gli affitti meno di quanto in cassa e prima non era così, dice l'assessore. Se nella 2014 uscite ed entrate hanno fatto pari, nella 2015 il saldo è stato addirittura in attivo di circa 200 mila euro. E probabilmente, conclude l'assessore, l'anno prossimo arriveremo sostanzialmente a non avere più affitti passivi e quindi utilizzare per i nostri uffici solamente immobili di proprietà. Grazie.